Dopo mesi di progressiva carenza di medici, la Regione Marche interviene sottoscrivendo un nuovo accordo sperimentale per stilare nuove misure straordinarie a garanzia della continuità assistenziale. A sottoscriverle, oltre all'assessore Filippo Salta Martini, il presidente regionale della Federazione Medici di Medicina Generale Massimo Maggi, il segretario regionale del sindacato Snami Fabrizio Valeri e il direttore generale dell'Asur Marche Nadia Storti. Noi attraverso questo accordo sperimentale unico e primo in Italia introduciamo dei principi che verranno recepiti poi nell'accordo nazionale e in sostanza si prevede che nelle postazioni dove attualmente non si riesce a reperire un medico si possa creare un meccanismo ABESPOC per cui comunque il cittadino ha comunque una risposta. Il meccanismo sperimentale prevede poi che attraverso uno studio della statistica degli interventi si possa modellare comunque una centrale che risponde e smista le chiamate e i bisogni dei cittadini secondo un criterio che fa perno evidentemente sulle risorse esistenti. Io sempre, per non essere equivocato, è chiaro che il servizio di continuità assistenziale è diverso da quello emergenziale del 118, ma voglio ricordare che comunque il servizio 118 in caso di sintomi pericolosi è sempre il numero di riferimento. Rimappare le esigenze, i bisogni territoriali, dividere quelle zone in cui c'è una maggiore richiesta di assistenza rispetto a quelle dove la richiesta è un po' più bassa. Questo che cosa comporta? Comporta che in quelle zone dove la richiesta è più bassa la presenza del medico della continuità assistenziale si interrompe alle ore 24 e poi riprende con il medico di famiglia alle ore 8. In quelle zone dove invece l'assistenza è un pochino più consistente, ci sono più richieste, ad esempio le strutture residenziali, gli hospice, l'ospedale di comunità, lì rimane invece un'assistenza che va dalle 20 di sera fino alle 8 del mattino. Abbiamo chiamato questo sistema, così per dare una prima idea, insomma H16 rafforzata perché appunto non è uno sguarnire il territorio ma è riqualificare la presenza del medico nel territorio perché poi molte delle attività si trasferiranno anche nell'aumento di prestazioni negli studi medici, nei distretti per la diagnostica di primo livello. Questo è una sperimentazione, quindi un primo passo che va nel senso anche di cominciare ad applicare, capire quali saranno le nuove regole con il PNRR e quindi con la presenza di una centrale operativa che gestisce sul territorio le risposte ai bisogni dei cittadini. C'è da tener conto, lo voglio sottolineare, che questo accordo anche sperimentale migliora i trattamenti del personale che viene impiegato soprattutto in orari notturni, attualmente la prestazione viene rimunerata con 23 euro l'ora, con questi accorgimenti si può arrivare anche a 40 euro l'ora ma quando i medici riescono a sostituire altre postazioni non coperte. Quindi diciamo che c'è un beneficio per quanto riguarda l'impiego di risorse pubbliche e c'è un beneficio anche per gli stessi operatori sanitari, per gli stessi medici.